Vantaggi fiscali per le aree interne. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge per aumentare le agevolazioni contributive. Per Etola, mozione contro l'inquinamento acustico. La presentata il consigliere della Lega, Giovanni Galli, dopo il dibattito in Consiglio, è stato deciso di affrontare il tema in commissione. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la proposta di legge diretta al Parlamento per maggiori vantaggi fiscali per le aree interne. Il provvedimento chiede infatti di estendere a questi comuni le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020 per i territori svantaggiati. L'obiettivo ancora è quello di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. Iniziamo con le interviste ed apriamo con il primo firmatario della proposta di legge, Marco Nicolai. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, e ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza, non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in sei mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, è il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro nord. Le regioni non hanno competenza in materia fiscale, ce l'ha tutta lo Stato. Noi abbiamo voluto fare una proposta concreta, quindi allacciandoci a una misura come quella della decontribuzione che dove è stata applicata ha prodotto un aumento dell'occupazione e soprattutto abbiamo voluto sfruttare la massima possibilità, cioè la proposta di legge al Parlamento. Noi ci auguriamo che ora anche le altre regioni del centro nord sostengano la battaglia che da oggi inizia la Toscana perché appunto le aree montane del territorio nazionale, tutte, anche quelle del centro nord hanno problemi seri dal punto di vista dello spopolamento e lo spopolamento si combatte non solo garantendo i servizi ma soprattutto creando lavoro e dando opportunità alle persone di poter crescere dal punto di vista lavorativo e professionale in questi territori. Chi fa impresa poi deve avere riconosciuto il valore sociale di questo intervento, quindi lo Stato deve fare subito qualcosa, la nostra proposta di legge al Parlamento chiede appunto di agire e indica anche una strada che dove è stata applicata ha già prodotto i benefici che noi vorremmo produce anche nelle aree montane della nostra regione. Allora è una proposta di legge che dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente, il tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro il riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario e che metterebbe in condizioni di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029 con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultimo diciamo nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente dal punto di vista sostanziale le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne proposta in commissione da Fratelli d'Italia e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree intere disagiate continuano nonostante tutto a creare e a portare a casa lavoro non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare e a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. Progetto interessante, il fine è quello che noi siamo posti come obiettivo in campagna elettorale, consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica, non sempre vivendo nelle aree interne della Toscana si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge, serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico, di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché in queste zone se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del centro-nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci. E quindi creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento, quindi rendere questi borghi, perché spesso sono borghi più appetibili a tutti. Quindi abbiamo votato convintamente questa proposta di legge al Parlamento, sperando che anche altre regioni lo facciano in modo che sia più sensibilizzato il Governo su questo fattore. Questa proposta era stata presentata anche dal Movimento 5 Stelle della Campania, perché è un'esigenza, la problematica delle aree interne e della necessità, o meglio, di cercare delle soluzioni allo spopolamento era emersa anche in quella regione, ma è sicuramente comune a tutta Italia. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Area Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree, e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente è da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. Voltiamo pagina. Interventi urgenti di Toscana a aeroporti per eliminare l'inquinamento acustico a Brozzi, Peretola e Quaracchi, i centri abitati vicino all'aeroporto di Firenze. Gli ha chiesti con una mozione il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli. Dopo un lungo dibattito il documento è stato poi ritirato per approdare in commissione su proposta del Presidente della Regione Eugenio Gianni, che ha chiesto di approfondire i vari punti. Sentiamo le interviste, in particolare quelle a Giovanni Galli della Lega e al consigliere Merlotti del Partito Democratico. Soddisfatto. È logico che questa era una mozione che ha messo in grave difficoltà la maggioranza, ma soprattutto ha sottolineato quelle che sono state le mancanze di questi ultimi vent'anni da parte dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, di Brozzi, Quaracchi, Peretola, Mantignano, Ugnano. Si parla di quasi 50.000 persone. Perché dico questo? Perché abbiamo sentito in questi ultimi due mesi molti interventi sull'aeroporto, come andava fatta la pista, come andava fatta l'obliqua, parallela o quant'altro. E nessuno invece si è soffermato su quello che è lo Stato di fatto. Lo Stato di fatto è una via che appartiene al 2003 e dove questa via è l'unico atto che è stato approvato, l'unico progetto che è stato approvato. Logicamente c'erano delle prescrizioni e queste prescrizioni, guarda caso, erano state fatte proprio dalla regione toscana. La Giunta, in questi vent'anni, non ha riconosciuto ADF responsabile di dover fare gli interventi di mitigazione sul territorio perché, a suo dire, non era stato dato il là a questa via. Ma non è vero. Non è vero questo perché la torre di controllo è stata fatta grazie a quella via, è stata fatta la mensa per ADF, il posto di polizia, la guardia di finanza, la copertura per la partenza in testa alla pista 23. Insomma, tanti interventi sono stati fatti da prima ADF e poi da Toscana Aeroporti grazie a quella via. Allora, se te accedi a quella via, logicamente non puoi dire io faccio quello che mi interessa e non faccio invece quello che serve a dover mitigare l'inquinamento acustico su quei territori dei quali parliamo. E allora io ho voluto richiamare all'attenzione proprio questo. Ho preso il documento e la richiesta che io ho fatto al Presidente, alla Giunta e al Presidente, è stata proprio quella di mettere in attuazione, essendo società controllore dell'aeroporto, di far fare ad ADF prima, adesso non più, ma a Toscana Aeroporti, quegli interventi di mitigazione per l'inquinamento acustico per questi luoghi. È logico che la situazione è un po' degenerata. Mi hanno chiesto addirittura di ritirare questa mozione perché il problema verrà risolto nel momento in cui si farà la nuova pista. Ma siccome siamo all'inizio di una nuova era, di una nuova epoca di riguardo a questa pista dell'aeroporto, mi immagino che i tempi saranno biblici. Per cui si dovrà aspettare altri dieci anni, fra presentazione dei progetti, approvazione e tutte le varie la via, il controllo e tutto quello che dovrà essere, per cui passeranno altri dieci anni e i cittadini di Brozzi, Guaracchi, Mugnano, Mantignano, Peretola dovranno ancora sottostare a questo inquinamento. La proposta posta nella mozione dal collega Galli affrontava il tema dell'inquinamento acustico ed ambientale e menzionava le prescrizioni previste dalla via del 2003, la 676, che imponeva una serie di adeguamenti alla società Aeroporto Toscani, ma questi adeguamenti sono poi decaduti in quanto il masterplan non è stato, come dire, realizzato perché erano vincolati alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti e non solo di una parte di essi. Tecnicismi, ma alla fine il punto è che la richiesta che io, a nome del gruppo del Partito Democratico, ho fatto in aula al collega Galli di un rinvio, perché oggettivamente non volevamo votare contro questo atto, ma trovare le condizioni con un rinvio che consentissero a noi e al Presidente Gianni, come poi ha fatto un intervento in aula che è seguito in parte di, come dire, motivare il fatto che quello che è chiesto nella mozione si può ottenere solo con la realizzazione della nuova pista. E siccome rispetto al dibattito in corso e alle scelte fatte ad ottobre dello scorso anno dal Consiglio a maggioranza riguardo alla nuova pista, ci sono delle novità sostanziali che sono oggetto del dibattito quotidiano, che possiamo leggere sulla stampa, nei mass media, nei dibattiti televisivi a livello anche locale, che portano a dire che il progetto in ipotesi di una pista di 2.200 metri rispetto ai 1.650 attuali, moderatamente o leggermente obliqua, possa consentire di sviluppare il sistema riportuale toscano con l'ampliamento appunto della pista di Peretola e quindi una maggiore fruibilità per i passeggeri, per le persone. Al tempo stesso si rafforza anche l'ipotesi di investimento su Pisa, tant'è che il 15 marzo partiranno i lavori per la nuova aerostazione di Pisa e al tempo stesso ne beneficerà tutto il sistema riportuale toscano, perché come ho detto e ripeto, l'aeroporto di Pisa non è dei pisani, l'aeroporto di Firenze non è dei fiorentini, ma il sistema riportuale è dei toscani e noi vogliamo sviluppo, lavoro, sostenibilità ambientale e maggiore sicurezza, perché la pista tra 2.200 metri su Firenze corrisponde anche a una maggiore sicurezza per gli operatori, avendo un margine più ampio per il decollo e gli atterraggi rispetto al sistema attuale, che di fatto infatti non consente ad alcuni aeromobili di poter atterrare su Firenze e ricordo che in caso di vento, semplice vento, a Firenze oggi non si atterra, quindi ad esempio ultimamente quando abbiamo ricevuto il Presidente Draghi è atterrato a Peretola perché le condizioni lo hanno consentito, avessimo avuto una giornata di vento come ci sono state in questi giorni, il Presidente Draghi sarebbe atterrato a Pisa o a Bologna, perché a Firenze non c'è possibilità. Per tutto questo noi riteniamo che il dibattito debba proseguire, pensiamo e ringrazio anche il collega Galli che ha compreso questo, che un voto oggi sulla sua mozione sarebbe stato transciano e non avrebbe portato a niente. Noi abbiamo tutto l'interesse, come anche il collega Galli che ha ribadito nel suo intervento di replica, di realizzare la nuova pista aeroportuale fiorentina, allungandola, in accordo e non come imposizione con i territori interessati e con le amministrazioni locali. Riusciremo in questo obiettivo e credo che ci riusciremo anche entro il termine della legislatura, compiendo per tutto il Consiglio regionale, di cui dovremmo andare orgogliosi e fieri, un atto che da 26 anni il territorio aspetta, i toscani aspettano. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.